E' di qualche ora fa l'annuncio della lettera che sarà inviata presto al presidente Mattarella da parte del sindaco di Arezzo. Intanto la Federconsumatori però di lettere ne ha scritte ed inviate ben tre. Una al presidente Mattarella, una al neopremier Gentiloni, l'altra al ministro dell'economia e delle finanze Padoan. Nelle emissive Federconsumatori segnalano la situazione di disparità in cui verrebbero a trovarsi i risparmiatori di Banca Popolare delle Truie del Lazio, Banca Marche, Carichieti, Cari Ferrara. Sulla vicenda Monte dei Paschi, Federconsumatori dice finalmente un provvedimento del governo che applica l'articolo 47 della Costituzione sulla tutela del risparmio. Si pone però a questo punto un problema di equità e giustizia. In uno stato di diritto tutti i cittadini devono godere di pari opportunità e pari diritti. Per questo a tutti gli obbligazionisti delle quattro banche in risoluzione chiediamo che nella sostanza venga riconosciuta la stessa salvaguardia e gli stessi diritti riconosciuti agli obbligazionisti subordinati di altre banche in crisi, a partire proprio dal Monte dei Paschi. A nostro avviso, conclude Ferrari, si rende necessario un intervento legislativo che corregga agli effetti del decreto del 22 novembre 2015. Intanto sul fronte dei rimborsi sta per scadere il termine e su questo Federconsumatori chiede una proroga, anche perché sono ancora molti i casi che sarebbero rimasti fuori. Mentre si attende ancora l'emanazione delle norme che dovranno regolare l'arbitrato.